Andiamo con una dive per poi la miglia vacca. Grazie a tutti. Un attimino, giusto il tempo di allacciare bene la cinghia e questo è il bello della diretta, ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ne approfitto per salutare i miei amici fisarmonicisti, amici e colleghi che ormai da tempo sono fermi come me, e sperando che questa pandemia possa finire il prima possibile e ritornare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Un attimino, giusto il tempo di allacciare, perché no, a lavorare come i nostri vecchi tempi. Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti